Buongiorno mister, domani si torna in campo contro Torino, allora le chiedo cosa portarsi dietro di positivo dalla trasferta di Ferrara e cosa mettere in campo domani? Non solo della trasferta del Ferrara, da quando sono arrivato tutto quello che vedo in allenamento, poi anche in partita sono contento della prestazione che fanno i giocatori, questa mentalità da Genoa, questa voglia di andare a attaccare, di andare con pala a aggredire l'avversario e secondo me questa è la strada giusta e domani è un giorno interessantissimo per confermare tutto quello che abbiamo fatto di buono. Il Torino non sta attraversando un ottimo momento dal punto di vista di prestazione di punti, allora le chiedo che avversario si aspetta. A di là dei risultati del Torino, il Torino è una squadra forte, una squadra forte dove noi dobbiamo essere tutti al 100% per poter fare una buona partita. Buongiorno mister, domani il calendario offre la vostra partita in anticipo e tutte le squadre che potete mettere nel mirino di rette concorrenti hanno sfide sulla carta molto complesse. È un aspetto che accresce l'importanza della gara che affronterete domani? L'importante di domani è affrontare la partita come si deve, è una partita molto importante per noi, ripeto, un giorno interessantissimo per confermare tutto quello di buono che abbiamo fatto fino ad oggi. Poi le altre partite, se giochiamo prima o dopo, qualcosa che conta, però poco. Invece l'ultima, se da un punto di vista offensivo, domani il suo Genoa potrebbe cambiare qualcosa dall'inizio? Il Genoa giocherà offensivamente sicuro. Allora ho ancora un allenamento per vedere come stanno i giocatori e deciderò quelli che stanno meglio insieme per affrontare il Torino. La gestione di Sturaro sarà particolare dopo l'impegno di lunedì oppure no? Cioè nel senso se è ormai completamente alla pari con gli altri? Fa parte del collettivo e sta bene. È un giocatore in più che può giocare domani. Dal punto di vista fisico, Favilli, diciamo, come lo giudichi? Benissimo. E tutti gli altri. Veramente lo vedo tutti che stanno in una forma fisica molto buona, anche mentale. Ho tutti i giocatori a disposizione per poter scegliere i migliori che andranno in campo. E con lui ha una storia che è particolare, no? Perché da qua praticamente ha giocato pochissimo, ha avuto tanti infortuni. Dicevi che dal punto di vista mentale sta bene. Cioè vedi in lui fiducia. Perché quando un giocatore cade sempre, nel momento in cui riparte, vai in difficoltà o no? Cioè come lo vedi in questo approccio, a questo ennesimo rientro? Ripeto, lo vedo benissimo. Dal giorno che sono arrivato la sua disponibilità è stata sempre molto molto buona. Si è allenato tutti i giorni molto molto bene. E' uno dei giocatori che è in rose, che può giocare la partita di domani. C'è ancora questo allenamento per scegliere, però lo vedo in tutti gli aspetti. Forma fisica, mentale, gioco. Lo vedo molto bene come tutti gli altri. Poi non lo so cos'è successo prima, non c'ero io. Allora dal giorno che sono arrivato sono molto contento del lavoro che sta facendo. Ci hai deliziato come giocatore. Come? Ci hai deliziato come giocatore. Ci stai deliziando attraverso il gioco come allenatore. Possesso pallone, pallone tre piedi, aggressività, equilibrio. Lo vediamo in tutte le partite. Però tu sei il primo, consapevole, anche se sei molto filosofo, che qualche cosa là davanti bisogna fare. Perché senza gol non andiamo da nessuna parte. Tranne la partita contro il Napoli abbiamo segnato sempre. Da quando sono qua. E poi il gol è frutto del gioco, secondo me. Anche non sono uno filosofo. Sono uno che crede a una maniera di giocare a calcio per alla fine avere un buon risultato. Alla fine è così perché lo vogliamo tutti gli allenatori, lo vogliamo tutte le squadre. Alla fine vogliamo ottenere i punti. E per me sicuramente si passa per il gioco. E il gol, ripeto, è il frutto del gioco. Se noi giochiamo bene, se noi abbiamo noi il pallone e siamo capaci di costruire il gioco e arrivare nell'area contraria e creare l'occasione da gol, abbiamo più opportunità di segnare e più opportunità di vincere la partita. Tiago, tu la vivi ormai la città, perché tu ormai sei quasi genovese. Tutta questa paura che gira intorno al Genoa, tu ce l'hai? Come si può cancellare? Cosa puoi dire ai genuani da questo punto di vista? Ora, per essere sincero, da quando sono arrivato non ho mai avuto questa sensazione. Poi è vero che magari quando non arrivano i risultati si può creare un po' di dubbi, però veramente da quando sono arrivato non ho mai avuto questa sensazione. è la cosa più importante per me anche, che è da quello che posso io controllare, è dentro e dentro. Io vedo i ragazzi tutti i giorni che sono felici di uscire al campo, di allenarsi, di dare il suo massimo e sono molto contento delle prestazioni che abbiamo fatto fino ad oggi. Sicuramente questa è la strada giusta. C'è stato un cambio di direttore sportivo, ti chiedo come stai vivendo questo momento, che sensazioni hai tu? Non è ancora ufficializzato. Io vivo tutti i giorni benissimo perché io con i miei giocatori sto bene, stiamo lavorando molto bene. È la cosa per me la più importante. Io faccio l'allenatore, ho una grande voglia di continuare e per me è quello che serve. Sono i miei giocatori in campo, il resto poi alla fine si metterà tutto a posto. Nella riunione tecnica dei domani, fagli vedere quella partita del 9 di maggio del 2009, la partita che ha fatto Tiago Motta, Marco Rossi che è qui vicino a noi, è compagnia con il Torino. Solamente il 50-60% di quella partita si potrebbe fare risultato buono. Ognuno deve fare il suo percorso. Questi giocatori hanno un'opportunità enorme di creare la loro storia. è da domani. Io gli auguro a tutti quanti che dopo dieci anni la gente a Genova possano ricordare quello di bello che hanno fatto anche loro con gli esempi che hai dato in questo momento, soprattutto in quel periodo che era il nostro capitano Marco Rossi e tanti altri che sono passati al Genoa e che sono ricordati sempre benissimo per tutto quello che hanno fatto e che hanno lasciato soprattutto in campo. Perché hai nominato per esempio uno che andava in campo e lasciava sempre noi il 100%, il 200% con le sue qualità. E mi auguro che questi oggi che sono presenti, tra 10-20 anni, saremmo tutti a ricordarli nel miglior modo possibile. e dipende solo da loro. Mister Salve, due domande. La prima sul Torino. Un Torino che ha vinto una partita nelle ultime otto, però è una squadra costruita, non dico per puntare, alla Champions. Quello è il loro obiettivo. Possono avere un problema anche mentale? Se aggrediti subito possono andare in crisi? Secondo lei oppure... Non lo so. Non lo so, non sono lì dentro per sapere cosa succeda o no. Da quello che vedo dall'altra parte, a livello singolare, sono di grandissimo livello. A livello di squadra mi piace molto, non solo la maniera e l'approccio quando hanno la palla, se no anche senza. affronteremo una squadra forte. Dobbiamo essere noi preparati per tutto quello che possa succedere domani in campo. Dobbiamo essere preparati. Invece, un'altra cosa, lei l'altra volta ha detto, mi servono per segnare, ci vogliono anche gli inserimenti dei centrocampisti. A Ferrara è arrivato subito quello di Sturaro. Può essere una mossa vincente, visto che l'attacco a volte fatica? Deve essere, perché i gol non lo fanno solo gli attaccanti, i gol lo possono fare tutti che sono in campo, tranne magari in un episodio o l'altro, alla fine della partita ho visto anche i portieri che fanno gol. Però se io chiedo a tutti i giocatori di difendere, il nostro primo difensore deve essere l'attaccante, il nostro primo attaccante deve essere anche i difensori. Ciao Tiago, volevo chiederti che risposte a livello caratteriale hai ricevuto da Sean dopo l'esclusione di l'unico discorso. Bene, si è allenato bene come gli altri. Poi abbiamo un'altra partita dove la quale sceglierò ancora a quelli che io vedo che stanno bene per affrontare la partita di domani. Con la rosa al completo siete troppi, questo è un dato di fatto. Con la rosa al completo, a parte qua me, siete troppi. Lei prima di Ferrara ha fatto delle scelte che sono scelte semplicemente tecniche, giusto? Gli esclusi? Sempre. Non hanno problemi, quindi anche in questo caso saranno solo scelte tecniche? Sempre. Io non faccio mai le scelte per altre cose, io faccio le scelte per quello che vedo nei miei allenamenti, quelli che secondo me stanno bene per giocare la partita. Poi posso anche sbagliare perché le sbagliamo tutti, però sempre scelte tecniche. Ne ha già qualche idea per questa o deciderà poi solo l'ultimo? Sì, qualche idea ce l'ho, però abbiamo ancora un altro allenamento. Magari se un giocatore mi fa dieci gol, magari domani gioco. Paglia se unico.